hai notato detto lì che cosa sta succedendo tanto il remake inutile che pensa ecco fatto remake a posto ho detto che si era attiva io c'è il sistema attivato anti boosting vedi ragazzi se voi non conoscete questo gioco se continuate a vedere l'ai diciamo gli eventi falsi vi consiglio di passare da me coreani ttb l'unico che ti mostra la verità e la mafia di queste compagnie e statistiche tre volte superiore challenger tre volte superiore sia in compatimento che in controllo della mappa